Buongiorno, parlerò dei cambiamenti climatici e degli effetti che hanno sul mondo e vorrei cominciare facendovi vedere quanto rapidamente stia cambiando il clima e parlare di come possiamo intervenire per mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici sul nostro pianeta. Possiamo cominciare guardando questo grafico che è stato sviluppato solo recentemente. Ora sappiamo come misurare la temperatura media della Terra fino a un milione di anni fa e questo riusciamo a farlo attraverso le carote di ghiaccio che sono state estratte dalle calotte di ghiaccio in Groenlandia e nell'Artico e attraverso calcoli complessi possiamo misurare le temperature della Terra nel corso dell'ultimo milione di anni. Inoltre, attraverso piccoli campioni da queste carote di ghiaccio possiamo raccogliere delle piccole bolle d'aria rimaste intrappolate nel ghiaccio mentre nevicava. Estraendo la CO2 da quelle piccole bolle possiamo calcolarne il contenuto nel corso dell'ultimo milione di anni. Ora la CO2 è il gas serra più importante e più attivo ed è la causa del riscaldamento globale. Quindi è quasi un miracolo il fatto che possiamo dire quanto di questo gas era contenuto nell'atmosfera lungo un periodo di un milione di anni. E qui vediamo che c'è una sorta di pattern a dente di sega. A destra vediamo che il livello di CO2 nell'atmosfera era più o meno 280 parti per milione durante i periodi più caldi, cioè i periodi in cui il livello di CO2 era più alto e poi scendeva lentamente fino ad un minimo di 180 e poi cresceva rapidamente a livelli come quelli di oggi o del 1950 veramente perché c'è stato un cambiamento radicale nella quantità di CO2 nell'atmosfera negli ultimi anni nel periodo industriale. Quindi se guardiamo invece sulla destra vediamo che dalla precedente era glaciale, che è quel livello più basso, da lì sale velocemente a 280 che è il momento in cui c'è stato lo scioglimento dei ghiacci e quindi è cominciato un periodo detto interglaciale, quindi un periodo più caldo e poi è tornato il ghiaccio perché la temperatura è calata di nuovo ed è cominciata l'ultima glaciazione e poi c'è stata una crescita veloce fino ad oggi. Sale velocemente e scende lentamente perché la causa delle glaciazioni è un'oscillazione dell'asse terrestre che causa l'espansione delle calotte di ghiaccio del mondo, ma queste crescono ad una velocità determinata, cioè la velocità di formazione della neve. Quando però c'è una nuova oscillazione e la temperatura sale, i ghiacci si sciolgono, si sciolgono più velocemente perché si può sciogliere tanto ghiaccio quanto calore si immette, mentre per congelare si può arrivare soltanto al limite massimo dettato dalla formazione della neve. Quindi c'è un pattern a dente di sega nelle ultime migliaia di anni e poi i livelli di CO2 sono arrivati a questo livello di 280 ppm che sembra essere il livello ideale per la Terra nei periodi interglaciali e quindi siamo arrivati a questo livello nel 1950 e poi il tutto è aumentato molto velocemente fino ad arrivare a 400 parti per milione che è il livello attuale e questa è la principale causa dell'accelerazione del riscaldamento globale oggi. E allora vediamo innanzitutto le conseguenze di tutto questo sulla superficie della banchisa. Sappiamo che chiaramente uno degli effetti del riscaldamento è lo scioglimento dei ghiacci e delle nevi che avviene molto più velocemente di qualunque altro cambiamento nei paesaggi o nelle rocce. Infatti si dice spesso che non si può discutere con il punto di fusione del ghiaccio. Quindi la prima cosa che se ne va quando il clima si surriscalda sono la neve e il ghiaccio. E qui vediamo la situazione della banchisa nell'Artico, la parte in azzurro, negli anni 70, quando io ho cominciato a lavorare nell'Artico. Vediamo a sinistra che in estate la banchisa si ritira parzialmente dalle coste della Siberia e del Nord America, ma solo di poco. In genere non abbastanza da far passare le navi. Poi invece sulla destra vediamo che d'inverno la banchisa cresce, riempie l'intero bacino Artico, riempie anche la Baia di Baffin, la Baia di Hudson, parte del mare di Bering e parte del mare di Hoxhox, fino a raggiungere le coste giapponesi. E questo era il ciclo standard tra inverno e estate nell'Artico. Però oltre a questo c'era anche un trend che inizialmente non riuscivamo a vedere e pensiamo che questo sia cominciato più o meno nel 1900. In questo grafico vediamo come la calotta artica cambiava con le stagioni e vediamo che la curva più in basso, quella marrone, corrisponde al ghiaccio estivo che scompariva più velocemente che in altre stagioni. Quindi dal 1900 in poi il ghiaccio estivo si ritraeva più velocemente, ma in altre stagioni il ghiaccio si ritraeva più lentamente e quindi non ci siamo effettivamente accorti dei cambiamenti nell'Artico. Però quando poi sono diventati abbastanza ingenti, allora ce ne siamo accorti. E qui vediamo la situazione dei ghiacci negli anni 70 e paragonata a oggi. A sinistra vediamo la riga gialla che delimita il limite del ghiaccio estivo negli anni 70, mentre in azzurro si vede dove il ghiaccio è adesso. Quindi più o meno la metà, anzi più di metà della superficie della calotta che esisteva nel 1970 non esiste più durante l'estate. E infatti si può tranquillamente navigare attraverso il passaggio a nord-ovest per andare dall'Atlantico al Pacifico, che era una cosa che in passato non si poteva fare. Sulla destra vediamo una conseguenza, un effetto molto più piccolo, che è la diminuzione dalla linea gialla, che era il limite invernale degli anni 70, alla zona bianca, che è il limite invernale di oggi. C'è ancora molto ghiaccio durante l'inverno. Ora, questo è l'effetto sul ghiaccio. Analizziamo invece ora la temperatura. Abbiamo visto che c'era un certo pattern a dente di sega nell'ultimo milione di anni. E se però guardiamo agli ultimi mille anni, e anche qui lo possiamo fare grazie alle carote di ghiaccio, ma anche altri metodi, e lo vediamo nel grafico, qui più in basso, che la temperatura media della Terra è rimasta molto o relativamente costante dall'inizio del grafico, quindi l'anno 1000, quando in Groenlandia c'erano i vichinghi. Poi c'è un abbassamento molto graduale, il che significa che stiamo andando verso un'altra era glaciale, anche se molto lentamente, e questo è durato fino al 1950. Poi improvvisamente le temperature sono schizzate in alto e quindi è chiaramente iniziato un processo molto diverso rispetto a quanto è successo nel cambiamento lento dei primi mille anni. Questo schizzare verso l'alto è assolutamente un prodotto della rivoluzione industriale, quando abbiamo cominciato a bruciare carbone, che produce CO2, e la CO2 fa aumentare la temperatura dell'aria, della qualcosa ci siamo accorti inizialmente, e però sta certamente succedendo. Se espandiamo la curva più in basso e guardiamo soltanto gli ultimi 100 anni, vediamo che la temperatura è aumentata. C'è stata una pausa più o meno negli anni 20 e 30 e poi ha ricominciato a salire molto velocemente da allora. Inizialmente non c'era una spiegazione per tutto questo. Quando abbiamo cominciato a fare le misurazioni della temperatura dell'aria nel 1800, le temperature salivano a causa della combustione del carbone e poi anche del petrolio, ma nessuno era in grado di misurare questo aumento perché non avevamo servizi meteorologici nel mondo e nessuno faceva misurazioni regolari. Quindi la temperatura aumentava, ma all'inizio non lo sapevamo. E il primo scienziato che ha dimostrato che la temperatura doveva aumentare a causa dell'aumento delle quantità di CO2 nell'aria è stato uno scienziato svedese di nome Svanterrenius e questo è il famoso paper che ha scritto nel 1896 in cui si spiega che il riscaldamento dell'atmosfera era dovuto all'aumento delle emissioni di CO2 nell'atmosfera da parte dell'uomo. E perché succede tutto questo? Allora, quella che segue è una brevissima spiegazione dell'effetto Serra. Sulla destra vediamo la curva che mostra la quantità di energia che viene irradiata dalla Terra verso il Sole e c'è un equilibrio di energia tra le radiazioni a onda corta emesse dal Sole che arrivano sulla Terra e la riscaldano e poi la Terra le irradia a frequenze più alte di nuovo verso l'esterno, verso il Sole. Quindi l'equilibrio tra le radiazioni provenienti dal Sole e quelle della Terra verso il Sole è l'equilibrio che determina la temperatura della Terra. Allora, quando guardiamo questo equilibrio delle radiazioni come funzione della lunghezza d'onda, vediamo che dovrebbe esserci un cambiamento graduale. È una delle leggi dei gas, la legge di Stefan Boltzmann, che dice che le radiazioni che la Terra emette come funzione della propria temperatura dovrebbero cambiare in maniera proporzionale alla frequenza. Ma quando guardiamo le radiazioni, in questo caso sono misurate da un satellite sul Mediterraneo, vediamo che il trend non è un trend semplice. invece vediamo degli avvallamenti, dei vuoti nella distribuzione delle radiazioni, il che è dovuto al fatto che alcune delle radiazioni della Terra vengono assorbite dall'atmosfera e non riescono ad uscire verso il Sole. Le aree in cui questo avviene sono le più importanti, sono legate alla presenza del gas dell'atmosfera e il vuoto più grande qui è dovuto alla CO2 e qui ce n'è anche un altro legato all'ozono e poi un altro per il vapore acqueo. Ma come vedete, ciò che riduce la quantità di radiazioni che escono dalla Terra verso il Sole, il fattore principale, è la CO2 nell'atmosfera che assorbe parte di queste radiazioni che quindi non possono uscire dall'atmosfera. Poi ci sono altri fattori più piccoli legati all'ozono e al metano e al vapore acqueo. Quindi questi gas che fanno sì che le radiazioni della Terra rimangano all'interno dell'atmosfera piuttosto che uscirne per tornare verso il Sole, si chiamano gas-erra. Appunto il più importante è la CO2, il metano, l'ozono, l'ossido di azoto, il vapore acqueo sono meno importanti. Quindi parleremo molto della CO2, un pochino meno del metano durante queste lezioni. E questo è il contenuto gassoso. Ma se guardiamo gli effetti della CO2, vediamo che essa è la principale causa dell'aumento della velocità di riscaldamento del pianeta nell'ultimo secolo. Questo grafico ci mostra il riscaldamento avvenuto nell'ultimo secolo, più o meno, a causa della combustione crescente di carbone e petrolio. E vediamo che c'è stata un'accelerazione e ora la temperatura è più alta che mai. La temperatura e il contenuto di CO2 vanno di pari passo, perché man mano che immettiamo CO2 nell'atmosfera, essa assorbe le radiazioni della Terra, quindi impedisce loro di uscire dall'atmosfera terrestre e quindi l'atmosfera stessa si riscalda. Quindi il contenuto di CO2 e la temperatura dell'aria vanno di pari passo. Però l'aumento della temperatura non è ugualmente distribuito su tutto il pianeta e questo è importante per quanto riguarda l'impatto dei cambiamenti climatici sulle aree ghiacciate del pianeta, perché l'Artico si riscalda molto più velocemente di qualunque altra parte del pianeta. Qui vediamo la temperatura media della Terra e il cambiamento avvenuto dal 1800 in funzione della latitudine. Quindi se prendiamo il riscaldamento globale medio nell'Artico, a nord dei 60 gradi, il riscaldamento è molto più veloce rispetto a latitudini più basse o nell'Antartico. Quindi il riscaldamento dell'Artico è un fenomeno che non comprendiamo ancora del tutto, ma di fatto l'Artico si sta riscaldando tre volte più velocemente delle altre latitudini. Quindi davvero si sta sciogliendo molto velocemente. vediamo che non solo si riscalda più velocemente, ma anche nelle rare occasioni in cui la Terra si raffredda, questo si raffredda più velocemente. Quindi i cambiamenti di temperatura avvengono più velocemente nell'Artico che in qualunque altro luogo del pianeta. Qui vediamo un periodo tra il 1880 e il 2010 e qui c'è un periodo in cui la temperatura dell'aria in media su tutto il pianeta si è raffreddata leggermente per un breve periodo. E quando guardiamo le temperature nell'Artico, non solo lì le temperature aumentano più velocemente che nel resto del mondo, qui e qui, ma poi quando il resto del mondo si raffredda, nell'Artico c'è un raffreddamento più veloce. Quindi i cambiamenti, sia in positivo che in negativo, nell'Artico sono più veloci rispetto al resto del mondo. E come sappiamo tutto questo? Beh, conosciamo i livelli di CO2, come ho detto all'inizio, grazie all'utilizzo di piccole siringhe, come quelle che si usano per i vaccini, che utilizziamo per estrarre piccole bolle di gas dalle carote di ghiaccio e analizzare la quantità di CO2 in quell'aria. Per quanto riguarda la temperatura, invece, la fonte migliore di informazioni sono le misurazioni fatte in cima ad una montagna alle Hawaii. Lì misurano anche i livelli di CO2 e si tratta del vulcano Mauna Loa. Ed è straordinario perché fino al 1896 non sapevamo che stavamo immettendo gas climaticamente attivi nell'atmosfera e poi ce ne siamo accorti, grazie a Svanterrenius, ma non abbiamo cominciato a misurare temperatura e i livelli di CO2 fino al 1958 con questo osservatorio che è stato costruito in cima al vulcano dallo Scripps Institution of Oceanography di San Diego. Quindi dal 1958 ogni giorno questo osservatorio misura i livelli di CO2 nell'atmosfera, la temperatura dell'aria e anche molti altri parametri. Quindi dipendiamo da Mauna Loa per l'attuale conoscenza di quel che sta accadendo. Queste sono le registrazioni dal 1958 e sono molto importanti perché dimostrano una continua accelerazione nell'aumento dei livelli di CO2 nell'atmosfera e di conseguenza anche una continua accelerazione nell'aumento della temperatura. Qui vediamo la concentrazione di CO2 e la curva presenta delle oscillazioni perché il contenuto di CO2 varia a seconda delle stagioni tra l'estate e l'inverno e vediamo che le registrazioni sono cominciate ad un livello di circa 310 parti per milione nel 1958. Ora 280 era a livello della fine dell'ultima glaciazione quindi tutto ciò che abbiamo fatto nel 1800 tutto il carbone bruciato poi anche all'inizio del 1900 ha fatto aumentare i livelli di CO2 soltanto di 30 parti per milione da 280 a 310. Da allora però il tasso di aumento è accelerato e vediamo che c'è una crescita accelerata che va oltre le 400 ppm e queste sono misurazioni di ieri trascritte proprio dall'osservatorio di Mauna Loa quindi ieri era il 24 di gennaio il livello era 419 che vuol dire che qua su esattamente un anno fa era 416 quindi la concentrazione di CO2 sta aumentando adesso di circa 3 ppm all'anno quindi in un intero secolo da quando abbiamo cominciato la combustione di petrolio e carbone il livello è aumentato soltanto di 30 ppm da 280 a 310 e ora aumenta ad un ritmo di 3 parti per milione all'anno quindi molto più velocemente e in continua accelerazione e questo è davvero una fonte di preoccupazione e di questo che dovremmo preoccuparci in questo momento il fatto che questa curva della CO2 sta accelerando verso l'alto e niente di ciò che possiamo fare sembra rallentarla in questo grafico la linea rossa è la curva della CO2 e vediamo lungo la curva le conferenze annuali sul clima organizzate dall'ONU sono gli incontri della COOP conferenza delle parti e si vede che il livello della CO2 continua ad aumentare in maniera accelerata nonostante il fatto che in ciascuno di questi incontri il mondo era d'accordo sul fatto che bisognava fare qualcosa per eliminare o ridurre le emissioni di CO2 l'accordo principale è stato quello di Parigi del 2015 che è qui prima c'è stato un altro accordo e un altro primo ancora quindi sono grandi accordi globali sul clima a proposito della riduzione dei livelli di CO2 ma vediamo che non importa se raggiungiamo un accordo oppure no non c'è di fatto nessun cambiamento nel tasso di riscaldamento e di aumento della CO2 e l'accordo di Parigi non sembra aver avuto alcun impatto e è lì lo vedete nel 2015 ora invece siamo qua e vedete che il tasso di aumento della CO2 continua e continuerà anche in futuro perché se costruiamo un modello considerando le continue emissioni di CO2 dovute ai combustibili fossili il livello continuerà ad aumentare e quindi continuerà ad aumentare il riscaldamento globale qui vediamo un insieme di curve che che mostrano il possibile aumento della quantità di CO2 se non modifichiamo per niente le nostre emissioni quindi questa curve che cresce rapidamente e se invece interveniamo sulle nostre emissioni possiamo tenere più basso il tasso di crescita o evitare del tutto l'aumento di CO2 e qui vediamo la situazione di adesso con un aumento molto rapido e sappiamo che se continuiamo a non far nulla rispetto alla CO2 il tasso di crescita continuerà a crescere e questo si traduce in un aumento della temperatura di 3, 4, 5 gradi entro la fine di questo secolo che non è tollerabile nell'accordo di Parigi del 2015 le nazioni del mondo si sono impegnate a ridurre le emissioni di CO2 affinché il livello massimo di riscaldamento entro la fine del secolo sia di 2 gradi abbiamo calcolato che un aumento di 2 gradi è il massimo che la terra possa sostenere se vogliamo evitare conseguenze disastrose sulle coltivazioni sugli incendi boschivi in generale sul pianeta quindi un aumento di 2 gradi è molto serio e un aumento di 1,5 gradi sarebbe molto meglio quindi se potessimo limitarci a 1,5 gradi sarebbe meglio ma siamo praticamente già arrivati a 1,5 gradi quindi se continua ad aumentare le emissioni di CO2 arriveremo ben oltre 1,5 gradi fino a temperature che sono davvero molto gravi per quanto riguarda le possibilità di sopravvivenza dell'uomo su questo pianeta vediamo che cosa è già successo per esempio sappiamo che gli ultimi sei anni sono stati i più caldi mai registrati gli aumenti precedenti dimostrano un aumento generale dall'inizio del ventesimo secolo quando abbiamo cominciato a utilizzare i combustibili fossili quindi le temperature sono aumentate e in questi ultimi sei anni c'è stato l'aumento più forte che mai la temperatura media è 1,25 gradi al di sopra della temperatura dell'inizio del ventesimo secolo ora i climatologi dicono che non siamo ancora arrivati ad un aumento di 1,5 gradi che è il livello pericoloso abbiamo raggiunto 1,25 in realtà però dovremmo cominciare a contare dall'inizio delle combustioni di carbone nel diciannovesimo secolo e se sommiamo l'aumento avvenuto nel diciannovesimo secolo a questo aumento avvenuto nel ventesimo secolo arriviamo certamente a 1,5 gradi quindi i climatologi stanno cercando non di imbrogliarci ma di minimizzare l'effetto dicendo che l'aumento è solo 1,25 gradi ma in realtà non è vero siamo già arrivati ad un aumento di 1,5 gradi rispetto all'inizio dell'era industriale un modo molto intelligente di guardare riscaldamento del pianeta negli ultimi 50 anni è stato quello di fare una classifica delle temperature per ogni mese dell'anno per vedere l'anno più caldo il secondo classificato il terzo classificato eccetera quindi ogni mese per ogni mese dell'anno abbiamo un numero che è la posizione della classifica di quell'anno in blu sono le temperature fredde in rosso le temperature calde quindi vediamo che per esempio il gennaio più caldo è stato molto recentemente sono questi tre gli anni più caldi gli anni molto recenti invece negli anni più indietro gennaio era molto più freddo per esempio il numero 40 era qui quindi in generale a sinistra c'è il blu che vuol dire temperature più basse e il rosso è sulla destra quindi in questa classifica dei mesi si può vedere ogni mese dell'anno e vedere quale anno ha avuto per esempio il mese di ottobre più caldo di nuovo si trova in anni recenti uno due tre sono qui sulla destra e possiamo vedere quale ottobre sono stati più freddi e sono qui negli anni 70 quindi mettendo insieme tutto questo e guardando i colori si vede che il rosso sulla destra al blu sulla sinistra dunque gli anni più recenti sono più caldi mentre i precedenti erano più freddi e questo riguarda soltanto gli ultimi 40 anni e però possiamo già vedere che in quest'ultimo periodo la terra ha visto un aumento di temperatura radicale ora vediamo la situazione di adesso perché le cose stanno succedendo sempre più velocemente guardiamo quest'anno dell'anno scorso il 2021 abbiamo visto la temperatura più alta mai registrata sul pianeta è successo negli emirati arabi in un paese chiamato sui han che ha raggiunto i 51 virgola 8 gradi centigradi questa è la temperatura dell'aria misurata in modo affidabile più alta che sia mai stata raggiunta ed è successo nel 2021 è chiaro che nel deserto arabico ci si aspetta di trovare temperature molto alte ma si sono registrate temperature molto alte l'anno scorso anche in luoghi inaspettati quella più inaspettata è stata in una cittadina sulle montagne rocciose della british colombia che sono di solito coperte di neve io ci sono stato si chiama litten è una cittadina sulle montagne dove non ti aspetti temperature molto calde e lì hanno raggiunto 47,9 gradi così caldo che la città ha preso fuoco e gli alberi intorno alla città e la città stessa è stata distrutta dall'incendio boschivo dovuto alle alte temperature quindi questo è un evento straordinario per il canada è stata la temperatura più alta mai raggiunta in canada abbastanza alta da distruggere un'intera città ora il riscaldamento è stato molto rapido come abbiamo visto alle alte latitudini e nell'artico e lo vediamo di nuovo qui da una registrazione di temperature della siberia le barre rosse a destra mostrano che la siberia si sta surriscaldando più rapidamente rispetto al resto del mondo in effetti in questa regione c'è stato un innalzamento di 6 gradi della temperatura che è straordinario e la conseguenza sono stati gli incendi la foresta siberiana e la taiga sono stati oggetto di incendi spontanei e alcuni bruciano da più di un anno senza interruzione il che è inaspettato perché la siberia è normalmente molto fredda e anche umida non è un luogo che facilmente prenda fuoco ma in questo caso è successo e ci sono incendi in siberia che continuano a bruciare perché sono in zone così remote che nessuno riesce ad arrivare a spegnerli il più ampio incendio di tutto il mondo è il grande incendio della siberia che è ancora in corso ed ecco un altro incendio in un posto ben più accessibile a pasadine io l'ho visto ho fatto io questa fotografia mentre guidavo era l'agosto del 2019 un incendio boschivo in un canyon si è poi esteso a tutta la città e pasadine è una città non ci si aspetta che una città possa prendere fuoco ma è successo ed ecco qui vedete per diversi giorni la tangenziale che io stavo percorrendo è stata chiusa quindi non si poteva andare da nessuna parte fino a che non hanno spento l'incendio questo per farvi vedere la conseguenza rappresentata dagli incendi e un'altra conseguenza è che come vi ho già fatto vedere la banchisa sta scomparendo non soltanto però in estate ma si ritira anche durante tutto l'anno e qui vediamo diversi anni di registrazione della superficie della calotta artica durante i mesi primaverili ed estivi e poi in autunno questi sono valori su base annua l'anno scorso è arrivata al livello più basso mai registrato che è questa curva rossa e però non è un valore molto basso soltanto qui a metà dell'estate è un valore molto basso per tutto l'anno quindi questo sta succedendo ora la banchisa si sta indebolendo durante tutto l'anno anche se ovviamente il cambiamento più grosso avviene durante l'estate questa è la continuazione della curva di quest'anno e vediamo che la ripresa dopo l'estate è più debole e la linea azzurra fa vedere la situazione attuale del ghiaccio e la superficie più piccola di quella dell'anno scorso il record mondiale finora di perdita di ghiaccio è stato raggiunto nel 2012 in bianco vedete il limite del ghiaccio nel 2012 e invece la linea gialla è la linea del ghiaccio degli anni 70 quando c'era molto più ghiaccio quindi si vede che il ghiaccio si sta ritirando sia d'estate che d'inverno e da un certo punto scomparirà prima di tutto in estate e quali sono le conseguenze di tutto questo? Beh possiamo vedere dei cambiamenti in diversi luoghi dell'artico questo è un punto interessante dell'artico e nella Groenlandia nord occidentale io ci sono andato con dei cacciatori inuit che andavano a caccia di orsi polari su slitte trainati da cani quindi ho fatto la foto sulla slitta con i cani e c'era un'altra slitta davanti a noi e poi sullo sfondo un iceberg la superficie piatta e bianca su cui eravamo è la banchisa che era abbastanza spessa da permettere agli eschimesi di cacciare con le loro slitte pesanti e con i cani ed era così nel 2010 quando invece un mio collega ci è tornato l'anno scorso ha visto questo questo è esattamente lo stesso luogo proprio la stessa slitta gli stessi cani quindi lo stesso cacciatore che esce e fa vedere come caccia gli orsi polari ma invece di camminare sul ghiaccio purtroppo qui si muovono nell'acqua c'è uno spesso strato di acqua sul ghiaccio perché il ghiaccio si sta sciogliendo anche d'inverno perché questa foto è stata fatta a marzo ed è molto pericoloso andare su questo tipo di ghiaccio con una slitta perché non sai qual è lo spessore del ghiaccio quindi questo è un cambiamento che si è verificato nel giro di pochi anni d'inverno e la Groenlandia nord occidentale è la parte più fredda della Groenlandia questo significa che non possiamo più fare le cose che facevamo una volta nell'artico uno dei modi in cui studiamo il ghiaccio è andare nell'artico d'inverno costruendo delle baracche per creare un accampamento con varie attrezzature nelle baracche per fare osservazioni e misurazioni del ghiaccio dell'aria e dell'acqua quindi qui vedete il campo in queste baracche vivevano sei persone in totale e io ero una di queste questa era la cucina e la mensa e qui c'era il generatore per l'elettricità e qui era dove facevamo tutte le misurazioni tutto questo veniva mantenuto e collegato con aeroplani ed elicotteri ci si andava per due tre mesi d'inverno e poi si andava via demolendo le baracche ma non si può più andare in questo luogo a costruire queste baracche perché il ghiaccio il ghiaccio cosiddetto motier che è ghiacciato da più di un anno e crea una superficie spessa e sicura per lavorare quel ghiaccio lì non esiste più quindi non è più sicuro andare lì a lavorare su ghiaccio artico in inverno e questo rende la vita degli scienziati difficile ora quello che facciamo è congelare una nave nel ghiaccio come questa e poi lavoriamo dalla nave per cui se il ghiaccio si rompe non non cadiamo nell'acqua ma ma siamo a sicuro sulla nave la misurazione di come si assottiglia il ghiaccio è una cosa difficile da fare si possono utilizzare i satelliti che misurano la superficie del ghiaccio ma per misurare lo spessore bisogna andare sotto il ghiaccio e guardarlo dal basso per farlo bisogna usare un sottomarino e noi abbiamo utilizzato i sottomarini della marina militare britannica e americana per andare sotto il ghiaccio e misurarlo con un ecoscandaglio e qui vedete che effetto fa il sottomarino che emerge dal ghiaccio ci avevano portati a riva per permetterci di fare queste riprese qui lo si vede appunto emergere dal ghiaccio e così questa era la nostra vita eravamo io e un collega quando facevamo le misurazioni da sotto un sottomarino è un'imbarcazione militare quindi non avevamo cabine confortevoli dovevamo dormire dove normalmente si conservano i siluri molto scomodo inoltre il sottomarino è pieno di cose ci sono attrezzatore dovunque e questa è la stanza di controllo del sottomarino questo è stato l'ultimo viaggio che abbiamo fatto e in quel caso avevamo un ecoscandaglio molto avanzato che non registra soltanto le riflessioni dalla superficie ma da anche proprio una registrazione precisa 3d della forma del ghiaccio da sotto quindi si monta il sonar in cima al sottomarino qui e ti fa vedere le creste nel ghiaccio chiamate creste di pressione e qui ne vediamo alcune con il ghiaccio stratificato sotto questa invece è la misurazione di tipo più vecchio dove si usa un unico ecoscandaglio guardando dal basso verso l'alto e qui ti dice quanto è spesso il ghiaccio con una riflessione dal basso e qui si vede che il ghiaccio era un mix di ghiaccio più spesso detto pluriennale ghiaccio più sottile formato dal congelamento delle fratture e ghiaccio del primo anno e queste sono le creste causate dal vento che accumula il ghiaccio in certi luoghi e forma queste creste che possono essere profonde anche 40 50 metri ora qui si vedono il ghiaccio pluriennale e le creste si vede l'artico com'era negli anni settanta quando ci lavoravo io invece adesso è molto meno impressionante perché il ghiaccio non dura più anni ma soltanto un anno si ferma si forma e poi si scioglie è molto sottile ed è difficile camminarci sopra è pericoloso insomma il paesaggio artico è completamente diverso da com'era a com'è adesso e questo è un cambiamento di grandezza della superficie ma anche dello spessore del ghiaccio e mettendo insieme le due quindi guardiamo il volume cioè lo spessore moltiplicato per la superficie vediamo che la diminuzione è molto veloce a partire dagli anni settanta siamo arrivati a un quarto di quel che era nel 79 la linea rossa è il volume di adesso nell'estate artica e questo invece è com'era quindi vediamo una diminuzione rapida molto rapida della superficie e dello spessore del ghiaccio dunque cosa possiamo fare e questo è ciò che ci spaventa di più il punto principale è che la quantità di co2 che emettiamo continua ad aumentare ora alcuni paesi hanno cominciato a cercare di ridurre le proprie emissioni queste sono le emissioni dell'europa la linea azzurra e gli stati uniti la linea nera che recentemente mostrano delle diminuzioni queste però sono assolutamente controbilanciate dagli aumenti delle emissioni di cina e india e questo ovviamente è perché l'industria in cina sta crescendo molto velocemente quindi ora le aziende cinesi producono ciò che noi una volta producevamo in europa e negli stati uniti quindi le emissioni europee sono leggermente diminuite ma quelle della cina e dell'india crescono molto velocemente se le sommiamo vediamo che le emissioni globali continuano ad aumentare e come vi ho fatto vedere anche in grafico precedente non vediamo alcun segno di diminuzione delle emissioni globali il primo grafico faceva vedere la co2 e ora vediamo che anche il metano sta aumentando molto velocemente e ha cominciato ad aumentare intorno agli anni 1850 1900 con la rivoluzione industriale a causa della combustione del carbone e poi è schiezzata verso l'alto quindi il metano e la co2 danno entrambe un contributo attivo all'effetto serra queste sono le misurazioni del metano nell'artico sembrava che il metano avesse raggiunto un certo livello che non stesse più crescendo perché queste sono solo fluttuazioni stagionali e poi però ha ricominciato a crescere e poi vediamo queste piccole bolle che sono singole bolle di metano che pensiamo siano emesse dal fondale marino dell'artico e ve lo faccio vedere qui quindi il risultato è che la co2 ha continuato ad accelerare la propria crescita come abbiamo visto e anche il metano è aumentato rapidamente poi la curva si è un po' appiattita nel primo decennio di questo secolo e poi ha ricominciato ad aumentare e lo fa sempre più velocemente quindi il metano adesso cresce a una velocità ancora più alta della co2 cominciamo a guardare quali sono le conseguenze di questo aumento del co2 sul clima la prima ovviamente il riscaldamento dell'atmosfera questo causa poi un innalzamento del livello del mare il che è molto importante per il pianeta il livello del mare a livello globale determinato dalla quantità di ghiaccio conservato nell'artico nell'antartico nella calotta glaciale della groenlandia e in quella antartica e con l'aumento delle temperature i ghiacci si sciolgono e questo scioglimento provoca all'innalzamento dei livelli del mare qui vediamo che nel ventesimo secolo i livelli del mare sono aumentati lentamente e poi però adesso sono schizzati verso l'alto e le previsioni se continuiamo ad emettere gas serra che fanno sciogliere i ghiacci la previsione è che a livello globale il mare continuerà ad innalzarsi in maniera accelerata queste osservazioni prevedono un aumento di più o meno un metro entro la fine di questo secolo ma nel tempo sono state fatte nuove misurazioni che sono sempre più alte quindi la stima del livello del livello del mare entro la fine del secolo è ora ben oltre il metro quasi due o tre metri vediamo e vediamo questa perdita del ghiaccio se andiamo in groenlandia io per esempio sono andato a vedere la calotta della groenlandia in agosto quindi a metà dell'estate nel 2019 ed ecco cosa ho visto innanzitutto non c'è traccia di neve sul ghiaccio perché è già tutta sciolta la temperatura dell'aria che normalmente sta durante tutto l'anno sotto lo zero arrivava a 21 gradi cioè caldissimo e quel giorno 12,5 miliardi di tonnellate di ghiaccio si sono sciolte una quantità incredibile e guardando la calotta si vede che a causa dello scioglimento dei ghiacci il terriccio che si è depositato sul ghiaccio negli scorsi decenni addirittura secoli ora è esposto perché il ghiaccio è diventato acqua quindi si è sciolto e quindi resta solo il terriccio e si ha quello che si chiama ghiaccio nero il problema è che il ghiaccio nero causa ulteriore surriscaldamento perché assorbe il caldo molto di più rispetto al ghiaccio bianco quindi la superficie di ghiaccio nero in Groenlandia sta causando un ulteriore surriscaldamento ancora più veloce dell'isola e qui si vede il ghiaccio nero che copre il ghiaccio pulito quello bianco che c'era una volta e vediamo le conseguenze su livelli del mare che stanno aumentando in maniera costante e arriveranno a livelli preoccupanti e questo porterà ad inondazioni in diverse parti del mondo compresa Venezia il riscaldamento globale ha come prima conseguenza l'innalzamento del livello del mare in tutto il mondo vediamo allora la seconda conseguenza perché vediamo già l'effetto del livello del mare che si alza in caso di acqua alta Venezia per esempio perché non è soltanto alta marea ma è proprio il fatto che il livello dell'acqua del Mediterraneo è più alto per cui ci sono sempre più inondazioni sulle città costiere e questa situazione peggiorerà sempre più con l'innalzamento del livello del mare il secondo fenomeno mi preoccupa molto e ci sto lavorando e si tratta delle emissioni di metano abbiamo già detto che il metano è uno dei gas serra non è così importante come la CO2 però è comunque abbastanza importante abbiamo visto che una delle fonti principali di metano ora è l'oceano e questo è molto preoccupante perché se guardiamo l'oceano artico eccone una carta batimetrica vediamo che il centro dell'oceano artico essendo un oceano è molto profondo 4.000 metri che è nella zona blu scuro ma l'oceano ha ampie piattaforme continentali sui bordi che sono le zone di azzurro più chiaro che hanno solo tra i 350 e i 100 metri di profondità ora questa è la vera fonte di pericolo perché sul fondale di quest'oceano c'è uno spesso strato di sedimenti come questi che sembrano ghiaccio ma in realtà sono gas metano disciolto nel ghiaccio che produce una sostanza chiamata idrato di metano è un materiale solido ma pieno di gas e se si avvicina a un fiammifero questa sostanza prende fuoco e dopo ve lo faccio vedere sembra proprio ghiaccio che brucia questo metano è molto pericoloso e al momento è intrappolato in questi sedimenti sotto l'oceano artico ma man mano che la temperatura del fondale marino aumenta per lo scioglimento della banchisa questo metano uscirà dai sedimenti e salirà in superficie sotto forma di gas e questo sta già succedendo e vediamo come funziona il metano è intrappolato sotto forma di questi sedimenti però i sedimenti si sciolgono il metano sale verso la superficie e quando raggiunge la superficie diventa gas ed è molto pericoloso in contatto con una fiamma può prendere fuoco come si vede proprio in questo buco nella banchisa e queste sono misurazioni tramite sonar dei pennacchi di metano questo è il fondale circa 50-60 metri di profondità questa è la superficie e questi sono i pennacchi di metano che escono dal fondale salgono verso la superficie ed escono nell'atmosfera questi pennacchi riflettono le onde sonore quindi questo è un sistema sonar che misura le onde sonore che vengono riflesse dai pennacchi questa è un'area larga circa 3-4 chilometri piena di metano che esce dal fondale e sale in superficie e se si cerca di dar fuoco a questo metano si potrebbe addirittura avere un'esplosione sulla superficie dell'acqua questa è un'altra immagine sonar della stessa cosa si vede che la profondità è soltanto 70 metri quindi il metano esce fino alla superficie e nell'atmosfera e questi sono i pennacchi di metano se si guarda invece dal punto di vista di un sommozzatore si vedono i pennacchi che salgono sotto forma di singole bolle che sono piatte in questo caso perché premono contro la banchisa in superficie quindi non riescono ad uscire facilmente nell'atmosfera però quando la banchisa sarà sciolta le bolle potranno arrivare sulla superficie e uscire nell'atmosfera e qui vediamo una fotografia fatta da un sottomarino che fa vedere le bolle di metano che vanno verso la superficie bene siamo arrivati alla fine della prima metà di questa presentazione abbiamo parlato del riscaldamento del pianeta abbiamo visto le cause di questo riscaldamento cioè i gas serra in particolare la CO2 e il metano e una delle fonti di metano che è il fondale dell'oceano artico che contiene grandi quantità di metano intrappolato in questi sedimenti man mano che la banchisa si scioglie perché aumenta la temperatura dell'acqua questo metano viene rilasciato nell'atmosfera ma ci sono molte altre fonti di metano di cui parleremo nella seconda parte e poi ci porremo questa domanda ci sono dei modi per eliminare questi gas serra affinché il contenuto di CO2 e metano ritorni a livello di prima della rivoluzione industriale in modo che le temperature tornino ai livelli di allora quindi invece di avere un riscaldamento estremo che mette davvero in pericolo la sopravvivenza dell'uomo potremmo forse tornare ad un clima più vivibile il clima che avevamo in passato in realtà un passato recente perché era l'inizio di questo secolo e di questo parlerò nel prossimo video continuiamo a parlare di questo metano artico che è una vera minaccia per l'esistenza della razza umana e considerando che esiste la possibilità che tutto il metano dell'artico esca in breve tempo a causa dello scioglimento dei sedimenti in questo caso cosa succederebbe ho fatto alcune ricerche prodotto un modello informatico con dei colleghi e abbiamo calcolato cosa succederebbe se 50 gigatonnellate 50 miliardi di tonnellate di metano emergessero dal fondale marino tutto in una volta ed è solo circa l'8% del metano esistente quindi il vero disastro potrebbe essere molto peggio ma con soltanto 50 gigatonnellate abbiamo visto che l'impatto sulla temperatura sarebbe questo vedete qui una famiglia di curve che rappresentano il riscaldamento del pianeta in diversi scenari di capacità da parte nostra di eliminare gas serra dall'atmosfera ora la linea azzurra qui in mezzo prevede alcuni tentativi di eliminare la CO2 dall'atmosfera ma non molto riusciti quindi è quello che più probabilmente succederà però se uscisse il metano tutto si riscalderebbe e quindi qui abbiamo la curva rossa che è ciò che succederebbe al pianeta con questa fuoriuscita di metano ora nel nostro modello l'aumento sarebbe soltanto di 0,6 gradi e considerando che l'aumento della temperatura è stato di 1,2 gradi dalla rivoluzione industriale otterremmo immediatamente un aumento della metà di quello soltanto con lo scioglimento del metano dei fondali e peggio ancora questo stesso lavoro è stato ripetuto da una scienziata americana l'anno scorso e lei ha ottenuto un aumento ancora maggiore 1,2 gradi utilizzando tecnologie di modellazione più avanzate quindi l'aumento della temperatura potrebbe significare un raddoppiamento del riscaldamento dalla rivoluzione industriale semplicemente dovuto alla fuoriuscita del metano dai fondali marini è davvero una prospettiva spaventosa e ora quale sarebbero i costi uno dei miei colleghi è un economista e ha calcolato i costi e si parlerebbe di 60 mila miliardi di dollari questo sarebbe il costo per il mondo di questo ulteriore riscaldamento globale ora è una cifra grande ma in realtà è soltanto il 15% del costo che il mondo sta già pagando per via delle emissioni di CO2 e comunque è un costo molto alto quindi il metano è una fonte di preoccupazione e vi ho fatto vedere che il livello di metano nell'atmosfera sembrava aver raggiunto un plateau quindi sembrava aver raggiunto un livello standard per delle ragioni che non abbiamo compreso e poi però ha ricominciato a salire e adesso la curva sale molto velocemente dobbiamo cercare di capire perché sta succedendo questo quindi quali sono le cause dell'aumento del metano conosciamo la causa dell'aumento della concentrazione di CO2 la combustione di petrolio e di carbone e l'utilizzo delle automobili tutto ciò che brucia combustibili fossili produce la CO2 e quindi fa aumentare la concentrazione di CO2 e quindi causa riscaldamento globale e questo è semplice ma il metano sta uscendo nell'atmosfera molto velocemente e ha una varietà di fonti purtroppo non ce n'è una soltanto sono diverse alcune sono legate all'intervento dell'uomo altre alla natura e queste sono quelle antropogeniche innanzitutto produciamo molti più rifiuti di prima perché la popolazione è cresciuta e i rifiuti accumulati in grandi ammassi si decompongono e nella decomposizione emettono metano quindi questo avviene nelle discariche il metano viene emesso dai combustibili fossili in particolare il gas naturale e una delle principali fonti di energia e riscaldamento per l'Europa è il gas naturale che proviene dalla Russia nel trasporto attraverso i gasdotti e vari altri sistemi per poi bruciarlo ci sono grandi perdite di metano e poi la coltivazione del riso che è una sorpresa sembrerebbe che non ci sia nulla di più ecologico della coltivazione del riso perché è l'alimentazione base del sud-est asiatico ma il problema è che il riso viene coltivato in campi allagati e questo allagamento fa sì che le foglie della pianta del riso marciscano producendo metano quindi una fonte di metano è la coltivazione del riso e di nuovo con l'aumento della popolazione dappertutto si coltiva più riso e quindi il riso come fonte di metano sta diventando sempre più importante e poi ci sono i ruminanti domestici che sono la fonte peggiore e di questo ci siamo accorti soltanto molto recentemente di quali effetti negativi abbia il bestiame in particolare i bovini il numero di bovini nel mondo sta aumentando molto velocemente perché nei paesi poveri come la Cina una volta le persone non potevano permettersi di mangiare la carne e ora invece possono e quindi lo fanno e quindi in tutti i paesi poveri del sud-est asiatico il consumo di carne una volta era basso ma adesso sta crescendo il che significa un maggior numero di bovini che producono enormi quantità di metano perché perché l'erba che mangiano deve essere ruminata e ridigerita più volte e in questo processo l'erba marcisce negli stomaci e produce metano quindi i bovini sono una grande fonte di metano purtroppo molto seria una grande quantità della produzione di metano nel mondo proviene dai bovini e poi c'è la combustione di biomasse e biocarburanti quindi vedete ci sono diverse fonti e sarà molto difficile eliminarne anche solo una per esempio potremmo fare più attenzione nella gestione dei rifiuti ma non possiamo fare molto a proposito della coltivazione del riso e per quanto riguarda i bovini la speranza è di poter dar loro da mangiare qualcosa di diverso sembrerebbe che le alghe marine siano molto meglio perché non producono tanto gas quanto l'erba quindi forse potremmo diminuire la quantità di metano ma è difficile da fare perché ci sono diverse fonti queste invece sono le fonti naturali la principale sono le zone umide paludi bacini fiumi dovunque dovunque c'è un terreno umido la vegetazione dentro l'acqua marcisce e produce metano quindi la fonte principale sono le zone umide ma c'è una fonte crescente che è il permafrost che è il terreno perennemente ghiacciato dell'Artico il problema è che il ghiaccio non è più perenne a causa del riscaldamento globale e buona parte del permafrost nell'Artico si sta sciogliendo e si sta trasformando in acqua quest'acqua però contiene vegetazione marcescente che continuando a marcire produce metano quindi il permafrost come fonte di metano aumenterà sempre di più poi ci sono anche le termiti le vedete qui e poi gli incendi i ruminanti selvatici con lo stesso effetto del bestiame e l'acqua dolce quindi ci sono diverse fonti naturali di metano ma la principale sono le zone umide parlando di permafrost dovremmo preoccuparcene perché il permafrost si trova sotto circa la metà del continente asiatico la maggior parte della Russia e metà della Cina e si sta riscaldando perché il clima si sta riscaldando queste sono misurazioni fatte in un paesino dell'Alaska settentrionale chiamato Dead Horse è un piccolo centro la popolazione è di una persona io ci sono stato ogni giorno questa persona prende la temperatura del permafrost a Dead Horse e come vediamo questa temperatura è in crescita molto veloce dovunque si facciano le misurazioni il permafrost si sta riscaldando in alcuni luoghi si sta sciogliendo diventa acqua e ha una vegetazione all'interno che marcisce e quindi produce metano quindi in futuro il metano deriverà anche dalla perdita di permafrost e questa situazione è stata chiamata la bomba orologeria del metano perché ci vorranno decenni prima che scompaia del tutto quindi abbiamo parlato dell'inalzamento del livello del mare come conseguenze del riscaldamento globale dello scioglimento della calotta glaciale della Groenlandia nell'Artico e abbiamo parlato di grandissime quantità di metano potenziali che potrebbero fuoriuscire dal fondale marino artico il che potrebbe essere un grande shock per il pianeta ora la terza conseguenza riguarda la corrente a getto e gli eventi meteorologici estremi e questo è un altro problema molto serio che si sta verificando e che però è appena stato riconosciuto ora in passato come vediamo nella figura di sinistra c'era un vento molto forte e costante che soffiava da ovest a est a latitudini medie dell'emisfero nord rappresentato dalle frecce azzurre a nord proprio sotto il polo abbiamo dell'aria fredda si chiama massa di aria polare e più a sud vicino ai tropici e all'equatore c'è la massa d'aria tropicale calda quindi c'è la massa d'aria tropicale a latitudini basse e la massa d'aria polare sotto i poli a dividere queste due masse c'è la corrente a getto molto forte e la conoscete se volate tra gli Stati Uniti e l'Europa perché rende il viaggio dagli USA all'Europa più veloce rispetto al viaggio in direzione opposta perché il vento soffia verso est quindi in passato era un vento molto forte e molto stabile e cosa succede ora? questo vento sta rallentando perché esso è dovuto alla differenza di temperatura tra l'aria polare e quella tropicale e questa differenza di temperatura sta diminuendo perché come abbiamo visto l'artico si sta scaldando tre volte più velocemente del resto del mondo quindi quell'aria polare fredda non è più così fredda si sta riscaldando e lo fa più velocemente di quella tropicale quindi la differenza di temperatura tra le due masse d'aria diminuisce e questo significa che la corrente a getto non è più così veloce quindi sta rallentando e quando rallenta smette di essere un vento forte costante e si interrompe fa come delle delle onde delle ondulazioni e le vediamo nel grafico di destra per cui non abbiamo una linea dritta ma il vento si interrompe fa come delle onde quindi in alcuni luoghi vediamo che l'aria calda dai tropici arriva più a nord di quanto facesse prima perché c'è appunto un'onda del vento e in alcuni altri luoghi l'aria molto fredda della regione polare arriva più a sud di quanto dovrebbe quindi abbiamo aria fredda che arriva in luoghi dove normalmente fa caldo e aria calda che arriva dove normalmente fa freddo quindi sulla superficie terrestre si verificano improvvisi episodi di freddo estremo mai visto prima oppure di caldo estremo mai visto prima si raggiungono temperature da record a causa di questa aria tropicale calda che si sposta verso nord e l'aria polare fredda che si sposta verso sud qui vediamo una simulazione fatta dalla NASA qui c'è la corrente a getto e qui vediamo che prende questa forma ondulata per cui l'aria calda dai tropici al Midwest degli Stati Uniti arriva più a nord di quello che dovrebbe quindi c'è aria calda che arriva alle praterie del Canada e qui invece l'aria fredda che dovrebbe essere sul polo arriva molto a sud quindi sugli stati della costa orientale degli Stati Uniti dunque la costa orientale degli USA che di solito è piuttosto calda invece diventa improvvisamente molto fredda e il Midwest del Canada che normalmente è freddo diventa particolarmente caldo questi sono gli eventi che possono succedere si chiamano eventi meteorologici estremi quindi non sono eventi climatici ma meteorologici non vi faccio vedere fotografie delle terribili inondazioni e uragani perché quelle le potete vedere al telegiornale quello che vi posso invece far vedere è l'effetto che tutto ciò ha sull'agricoltura qui il colore marrone indica l'intensità delle colture alimentari e vediamo che nel mondo le colture alimentari sono più intensive nel Midwest e nelle praterie del Canada in Europa in Ucraina nella Russia occidentale e poi anche l'India e in Cina ma guardiamo intanto questi luoghi che sono quelli dove la corrente agente si interrompe per cui invece di essere un vento affidabile e costante in questi luoghi si interrompe e fa delle onde e quindi ci dà un tempo atmosferico inaffidabile tuttavia abbiamo bisogno di un meteo costante per l'agricoltura e invece non ce l'abbiamo più in America del Nord in Europa in Russia e questa è davvero una fonte di preoccupazione perché sappiamo che buona parte delle colture alimentari producono di meno con l'aumento della temperatura queste sono le cinque principali colture alimentari sul pianeta quindi soia mais soia riso grano e un altro tipo di mais per ciascuna coltura all'aumento delle temperature queste sono le temperature e gli aumenti delle temperature rispetto all'era preindustriale all'aumentare delle temperature fino ad un aumento di 1 o 1,5 gradi il raccolto aumenta quindi c'è più crescita se si riscalda il clima però se le temperature crescono ulteriormente fino a 2 gradi o ancora di più la resa comincia a scendere e rapidamente perché le piante si seccano a causa del clima più caldo e quindi rendono di meno e questa è una delle motivazioni principali per cui nell'accordo di Parigi si è deciso di cercare di limitare il riscaldamento globale a meno di 1,5 gradi per tenerlo al di sotto della temperatura che riduce la resa delle colture come vedete siamo già a quella temperatura già ora a causa di questi eventi meteorologici estremi abbiamo perdite di raccolti a causa di questi riscaldamenti e raffreddamenti improvvisi e la portata di queste perdite è stata calcolata dall'ONU dal programma delle Nazioni Unite per il clima che ha creato un indice di misurazione cioè il prezzo medio del cibo in tutto il mondo quindi si misura il prezzo del cibo sia nei paesi poveri che nei paesi ricchi si fa la media e si ottiene e si ottiene il cosiddetto indice dei prodotti alimentari hanno cominciato nel 2000 a livello 100 e hanno misurato come questo prezzo medio è cambiato rispetto all'anno 2000 e con i risultati si vede che c'è stato un aumento molto rapido fino al 2009 quando è arrivato a 220 e questo significa che il prezzo medio dei prodotti alimentari nel mondo nell'anno 2009 era più del doppio del prezzo medio nell'anno 2000 e questo chiaramente è dovuto a diversi fattori tra cui anche l'aumento della popolazione ma uno dei fattori è proprio il fatto che abbiamo sempre più eventi meteorologici estremi a causa della corrente a getto e quindi temperature estremamente calde o estremamente fredde danneggiano le coltivazioni questo è forse un piccolo problema per paesi come l'Italia o l'Europa ma per i paesi poveri è un disastro se guardiamo i paesi poveri del Medio Oriente per esempio dove la maggioranza della popolazione vive nelle città e sono molto poveri non possono coltivare da soli i propri prodotti alimentari perché in città non c'è terreno per coltivare quindi devono comprare il cibo ed è sempre più difficile per loro farlo perché i raccolti diminuiscono quindi tutte queste frecce e queste indicazioni geografiche che vedete qui sono luoghi del mondo in cui il prezzo dei prodotti alimentari è cresciuto e di conseguenza ci sono stati disordini rivoluzioni rivoluzioni conflitti perché le persone non vogliono semplicemente morire di fame e si rivoltano quindi i luoghi dove avvengono i disordini corrispondono ai momenti in cui il prezzo dei prodotti alimentari sale quindi abbiamo qui tutto un insieme di disordini nel 2009 poi i prezzi sono calati e poi sono aumentati di nuovo nel 2011 e di nuovo abbiamo tutta una collezione di agitazioni e tutto ciò non può che peggiorare perché la popolazione mondiale sta aumentando e il clima sta diventando sempre più incerto a causa di queste ondulazioni nella corrente a getto e questo clima incerto causa un aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e quindi difficoltà ad acquistare il cibo specialmente nei paesi poveri e le conseguenze saranno più gravi in Africa l'ONU ha analizzato le prospettive di crescita della popolazione nei vari luoghi del mondo entro la fine del secolo come vedete buona parte del mondo ha una prospettiva di aumento l'Europa vedrà una diminuzione ma le altre parti del mondo avranno un aumento del 20-30% il che renderà difficile sfamare tutte queste persone anche se difficile ma non impossibile per l'Africa la previsione è che la popolazione quadruplicherà entro la fine del secolo e questa è davvero una prospettiva terrificante la popolazione africana che aumenta di quattro volte è terrificante perché già adesso l'Africa non è indipendente dal punto di vista alimentare deve importare cibo e in particolare aiuti alimentari dall'Europa e dagli Stati Uniti l'Africa ha bisogno degli aiuti alimentari per poter sfamare la sua popolazione ma se parliamo di una popolazione quattro volte più grande ci saranno enormi quantità di persone che proveranno ad emigrare verso l'Europa e già lo vediamo in parte ma quel che adesso è un flusso di migranti in continuo non è nulla in confronto a quel che succederà alla fine del secolo quando la popolazione africana passerà da 1100 milioni di persone a 4380 milioni di persone e ho scritto allarme perché come faremo a sfamare tutte quelle persone considerando che non riusciamo a sfamare quelle che abbiamo adesso sfamarne quattro volte tanto è davvero difficile a meno che l'Africa non adotti dei metodi di contraccezione e di riduzione della popolazione il che non sta accadendo il risultato secondo me sarà un disastro catastrofico e purtroppo le statistiche già dimostrano che accadrà guardiamo anche le altre conseguenze che purtroppo sono tutte negative la prossima riguarda ciò che avviene negli oceani quando aumenta la quantità di CO2 nell'atmosfera una parte di questa CO2 si scioglie nell'oceano e quando la CO2 si scioglie nell'acqua il risultato è l'acido carbonico che è appunto un acido e quindi se sopra l'oceano il livello di CO2 è più alto ci sarà più CO2 disciolta nell'acqua e quindi l'oceano diventerà più acido ora la misurazione dell'acidità è una funzione chiamata pH il pH dell'oceano sta scendendo che vuol dire che l'acidità dell'oceano sta aumentando queste sono misurazioni fatte alle Hawaii e vediamo invece le misurazioni dell'acidità eccola qui la vediamo cresce questa è l'acidificazione degli oceani che si vede a partire dal 1880 cioè quando sono iniziate le misurazioni negli oceani l'acidificazione recentemente ha visto un'accelerazione dagli anni 60 a causa di un'accelerazione dell'aumento della quantità di CO2 nell'atmosfera che porta ad una maggiore acidità negli oceani ora questo ha un effetto negativo perché con l'acidificazione degli oceani le creature che vivono nell'oceano e che dipendono da bassi livelli di CO2 muoiono in particolare i crostacei perché i crostacei di tutti i tipi hanno un esoscheletro fatto di carbonato di calcio sostanzialmente gesso e aumentando l'acidità negli oceani l'acido si scioglie l'acido scioglie il carbonato di calcio vi ricorderete forse dalla chimica fatta a scuola che se mettete dell'acido sul gesso il gesso si scioglie e gli esoscheletri degli animali sottomarini da quelli piccolissimi a quelli grandi stanno cominciando a sciogliersi a causa della quantità eccessiva di CO2 nell'acqua sotto forma di carbonato quindi l'acidità negli oceani sta aumentando in maniera accelerata e questo porterà alla perdita di buona parte della vita sottomarina perché i crostacei anche quelli minuscoli chiamati foraminiferi che sono piccolissimi normalmente affondano si depositano sul fondale marino e quindi scompaiono ma se si sciolgono nell'acqua invece di affondare questo fa aumentare la quantità di CO2 nell'acqua e quindi di nuovo aumenta il riscaldamento globale quindi abbiamo la morte della vita sottomarina e l'aumento del riscaldamento globale allo stesso tempo a causa della CO2 disciolta negli oceani quindi un altro elemento negativo tutto questo tutto quello che deriva dal riscaldamento globale purtroppo è negativo dobbiamo quindi cominciare a pensare cosa possiamo fare per controbilanciare tutti questi effetti negativi innanzitutto bisogna contrastare il riscaldamento e un modo è ridurre le emissioni di CO2 il problema però è che se riduciamo le emissioni in realtà non raffreddiamo il pianeta perché la CO2 resta molto a lungo nell'atmosfera uno degli aspetti negativi della CO2 è che resta quindi viene emessa bruciando combustibili fossili e non se ne va resta nell'atmosfera per centinaia di anni quindi tutta la CO2 che abbiamo adesso nell'atmosfera o parte di questa è stata immessa nell'atmosfera cento duecento anni fa quando qualcuno ha bruciato un pezzo di carbone magari su una nave a vapore nel 1900 quella CO2 è ancora nell'aria oggi quindi la CO2 non può essere eliminata riducendo le emissioni e questo è un gigantesco errore che il mondo sta facendo in questo momento molti dei climatologi stanno facendo questo errore pensano che tutto ciò che dobbiamo fare sia ridurre le nostre emissioni di CO2 quindi eliminare combustibili fossili passare alle batterie elettriche eliminare la combustione dei combustibili fossili e saremo a posto invece ciò che succederà è che il riscaldamento globale sarà più lento ma il mondo non si raffredderà perché c'è meno CO2 nell'atmosfera ce ne sarà comunque sempre di più quindi dobbiamo fare molto di più della semplice riduzione delle emissioni e purtroppo l'intergovernmental panel on climate change si è concentrato soltanto sulla riduzione delle emissioni e non sulla rimozione della CO2 dell'atmosfera mentre l'unica vera soluzione è eliminare la CO2 dall'atmosfera l'accordo di Parigi in cui tutti quanti si sono impegnati a ridurre le emissioni è falso non porterà ad un clima più freddo porterà soltanto ad un clima caldo che si riscalda più lentamente dobbiamo invece far scendere le temperature e l'unico modo per farlo è eliminare la CO2 dall'atmosfera con un processo che si chiama cattura diretta dall'aria e molti scienziati sanno tutto questo ma non tutti e certamente i politici non lo sanno e parlano solo di riduzione di ridurre le emissioni voi ne avete già sentito molto parlare della riduzione delle emissioni però attenzione perché non è la riduzione delle emissioni che aiuta il clima ma l'eliminazione della CO2 dall'atmosfera che è una cosa molto più difficile da fare ma vi farò vedere alcuni modi per farlo ecco questo è il pericolo queste sono le varie fonti energetiche che utilizziamo e vediamo che stiamo ancora utilizzando molti combustibili fossili il nero il rosso e il blu sono petrolio carbone e gas naturale che sono ancora le principali fonti di energia per il mondo le colonne più basse sulla destra sono il nucleare l'eolico il solare e l'idroelettrico queste sono le fonti che stiamo cercando di sviluppare per sostituire combustibili fossili in particolare il solare e l'eolico ma fino ad ora non abbiamo avuto grande successo nel farlo perché i combustibili fossili sono ancora dominanti quindi certamente dobbiamo ridurre le nostre emissioni di CO2 legate ai combustibili fossili ma questo è solo l'inizio dobbiamo fare molto di più e questo è il dilemma qui vediamo ciò che succederà con il riscaldamento globale nel futuro se non facciamo nulla il riscaldamento accelererà la linea rossa come dicono gli scienziati business as usual quindi non facciamo nulla e lasciamo le cose come sono se riduciamo le nostre emissioni in maniera significativa possiamo ridurre il tasso di accelerazione del riscaldamento ma certamente non lo possiamo portare al di sotto dello zero non lo possiamo raffreddare quindi il meglio che possiamo fare è diminuire il tasso di accelerazione del riscaldamento invece dobbiamo rimuovere la CO2 dall'atmosfera che è la linea verde per raffreddare il pianeta e poi c'è un altro sistema di cui parlerò che è la gestione delle radiazioni che anche può aiutare però sostanzialmente si tratta di eliminare la CO2 dall'atmosfera il che ci porterà a temperature più basse mentre la riduzione delle emissioni non ci porterà a temperature più basse allora il primo metodo è questo il metodo SRM è la gestione delle radiazioni solari ed è qualche cosa che si può provare è stato sviluppato da alcuni gruppi di lavoro con cui ho collaborato sembra essere un ottimo metodo si chiama Marine Cloud Brightening sbiancamento delle nubi marine e come funziona bisogna emettere particelle di acqua o di vapore acqueo nelle nubi il che rende le nubi più chiare e nubi più chiare riflettono più radiazioni verso lo spazio e questo raffredda il pianeta qui vediamo l'effetto del vapore acqueo sulle nubi sembrano quasi delle le scie degli aerei visti dall'alto sul mare questo è il golfo di Biscaglia invece il punto di vista è dal basso dal basso verso l'alto quindi ci sono gli aerei che volano no sono navi che navigano e si vede del vapore acqueo prodotto dalle ciminiere delle navi e quindi si vedono questi pattern di vapore acqueo quindi l'idea di uno scienziato scozzese di nome Salter è di costruire una nave una una nave senza equipaggio un drone che pompa acqua attraverso questi tubi tramite un bocchettone molto sottile che spruzza l'acqua suddividendola in particelle molto piccole e le immette in piccole nubi marine molto basse che si trovano tipicamente sul mare gli strati l'imbarcazione non ha equipaggio ma è controllata tramite computer e la propulsione è data da questi alberi che girano e creano una certa propulsione si tratta di rotori flettner allora ecco il progetto e secondo lui ce ne vogliono almeno 200 su tutti gli oceani del mondo per produrre abbastanza vapore acqueo da sbiancare le nubi e aumentarne la riflessione delle radiazioni dalla terra e qui descriviamo il progetto si tratta di aumentare la concentrazione di gocce in queste nubi basse chiamate strato cumuli l'effetto dello sbiancamento delle nubi e del conseguente aumento del loro potere riflettente si chiama effetto tumi scoperto in realtà solo recentemente nel 1990 quindi si immettono queste minuscole gocce nelle nubi e qui vediamo le nubi con le goccioline all'interno che emettono radiazioni nello spazio e più sono piccole le gocce e maggiore è l'albedo e quindi maggiore è la quantità di radiazioni mandate nello spazio e lo sappiamo perché se guardiamo le nubi temporalesche quando sta per piovere intensamente esse sono scure mentre le nubi che si vedono quando c'è il sole sono chiare e morbide e questo perché le nubi più chiare hanno delle piccolissime particelle di acqua che le rendono più chiare e permettono loro di riflettere molto di più nello spazio quindi le nubi grandi e scure invece riflettono meno radiazioni nello spazio e questo fa sì che il pianeta si riscaldi quindi il raffreddamento del pianeta potrebbe essere ottenuto dallo sbiancamento delle nuvole questa è una cosa meravigliosa che sembra effettivamente funzionare qui potete vedere come sia importante la dimensione delle particelle queste sono perline di vetro che sono state macinate in questo contenitore sono state macinate a un diametro di 4 mm e sono piuttosto scure ma se vengono macinate ulteriormente fino a un diametro di 40 micron allora diventano molto più chiare quindi immaginiamo una nube fatta da queste ultime che sarà più chiara e rifletterà più radiazioni nello spazio piuttosto che una nuvola fatta da queste particelle più grandi che sarebbe l'equivalente di una grande nube temporalesca quindi questo è l'effetto Tumi quindi Solter ha fatto questo progetto come vi ho fatto vedere prima questo e poi ne ha fatto un altro in cui si spruzza l'acqua non verticalmente ma orizzontalmente e quindi si tratta di un nuovo progetto ecco questo è un metodo che secondo me funzionerà ma vediamo che cosa il mondo ha finora soltanto deciso di fare nell'accordo di Parigi del 2015 secondo questo accordo dobbiamo cercare di limitare il riscaldamento entro i due gradi per evitare le conseguenze sulle coltivazioni e meglio ancora cercare di mantenerlo entro un grado e mezzo dovremmo ridurre le emissioni di gas serra il più velocemente possibile e ogni nazione dovrebbe dire quanto velocemente lavorerà alcune nazioni però non hanno ancora detto niente e non stanno facendo molto ma ogni nazione dovrebbe lavorare insieme alle altre e vedete che la debolezza di questo accordo è che parla solo di emissioni non parla di rimozione della CO2 ed è per questo che ci stiamo rendendo conto che si tratta di un accordo debole ora vediamo con quali altri metodi possiamo eliminare la CO2 oltre al metodo dello sbiancamento delle nubi allora tre metodi sono stati proposti e secondo me nessuno dei tre funzionerà se non la cattura diretta dell'aria innanzitutto la forestazione che significa piantare milioni di alberi ora gli alberi sono positivi tolgono la CO2 dall'atmosfera emettono ossigeno ma non sono così efficienti se consideriamo la CO2 che viene immessa nell'atmosfera dall'Europa e quanti alberi dovremmo piantare per eliminare quella CO2 il risultato è che l'area di foresta da piantare in Europa dovrebbe essere 6,4 milioni di chilometri quadrati cioè l'area di tutta l'Europa quindi dovremmo ricoprire l'intera Europa di alberi per poter controbilanciare la produzione di CO2 delle nostre fabbriche e i nostri automobili e chiaramente non si può fare un altro metodo è quello di bruciare biomassa e raccogliere la CO2 e immagazzinarla ma neanche questo funziona molto e richiederebbe 2,5 milioni di chilometri quadrati l'ultimo metodo proposto è quello di prendere un tipo di rocce l'olivina è una roccia calcarea che viene ridotta in polvere disseminata questa polvere in tutto il mondo sulle spiagge nei parchi sulle strade e la polvere lentamente assorbe la CO2 ma è un processo molto lento e poi una volta assorbita la CO2 bisogna poi ridurre in polvere altra roccia quindi non è tanto una buona idea l'unico metodo che pensiamo che funzionerà è la cattura della CO2 per cui si prende la CO2 direttamente dall'atmosfera e la si mette la si posiziona da qualche parte un modo che di nuovo purtroppo non è molto potente è quello di produrre una sostanza che si chiama biochar quindi si prendono i rifiuti agricoli si distillano in una specie di grande bollitore e si produce una sostanza simile al carbone e un olio che assorbono la CO2 quindi la prendono e la tolgono dall'atmosfera le popolazioni indigene dell'Amazzonia producevano biochar per rendere la giungla un posto meno umido quindi più adatto all'agricoltura alla produzione di cibo questa foto è stata fatta in America dove si produce biochar dagli scarti dei pistacchi che sono che vengono coltivati nella zona agricola di Ventura qui vedete il macchinario che digerisce le piante e produce il biochar ed è collegato al normale generatore a diesel dell'università per diminuire le emissioni di CO2 ed eccolo qua questo è proprio uno dei macchinari digerenti ne abbiamo diversi che si possono spostare nei campi ed ecco qua gli scarti dei pistacchi che vengono digeriti producendo quest'olio e il biochar quindi si estrae la CO2 e il carbonio dai gusci dei pistacchi praticamente sembra stupido ma funziona naturalmente ci vogliono molti pistacchi quindi si può fare soltanto in una zona agricola comunque questa è una soluzione la principale è quella di prendere la CO2 estraendola dall'atmosfera il che è un lavoro enorme che non so se riusciremo a fare al momento immettiamo 42 gigatonnellate di CO2 nell'atmosfera ogni anno che è una quantità enorme 42 miliardi di tonnellate perché una gigatonnellata è un miliardo di tonnellate quindi se vogliamo raffreddare il clima dobbiamo togliere più CO2 di quella che immettiamo quindi dobbiamo togliere più di 42 gigatonnellate di CO2 all'anno e come facciamo? allora ci sono diversi metodi messi in pratica ma su piccola scala una è un'azienda in California che estrae la CO2 facendola assorbire da un liquido e poi si fa reagire la CO2 con la calce l'ossido di calcio per produrre calcare artificiale qui ne vedete un'immagine e anche un'altra immagine questo è un modo per utilizzare la CO2 estratta dall'aria e qui un tecnico ci fa vedere come il calcare ottenuto estraendo la CO2 dall'aria viene inserito all'interno del cemento per creare un tipo di calcestruzzo che tra l'altro riduce la quantità di CO2 del calcestruzzo stesso attraverso questo calcare tutto questo funziona anzi è addirittura stato dimostrato che il calcestruzzo così prodotto con la CO2 dell'aria a tutti gli effetti funziona come il calcestruzzo normale però non si producono grandi quantità di CO2 come avviene normalmente nella produzione di calcestruzzo e qui è stata fatta una dimostrazione in un terminal dell'aeroporto di San Francisco dove hanno utilizzato il calcestruzzo fatto con la CO2 estratta dall'aria e c'è stata quindi una netta riduzione nella quantità di CO2 nell'atmosfera e questo è incredibile possiamo ridurre la CO2 anche utilizzandola per produrre calcestruzzo che normalmente viene prodotto emettendo grandi quantità di CO2 quindi è un metodo molto promettente appartiene ad un'azienda che si chiama Blue Planet c'è anche un metodo più semplice cioè quello di prendere la CO2 e pomparla sottoterra l'azienda che propone questo metodo in Europa si chiama Climeworks e il suo impianto principale è in Islanda è un impianto che estrae la CO2 dall'aria e la pompa all'interno di grandi caverne sotterranee che esistono per via della natura vulcanica dell'Islanda quindi queste cavità sotterranee sono luoghi in cui si può stoccare la CO2 e l'energia per farlo deriva dalla terra dal calore prodotto dai vulcani quindi l'azienda si chiama Climeworks e c'è stata una filiale sperimentale aperta in Europa l'unica in Europa in effetti gestita dal Politecnico di Torino si trovava in Puglia nel sud Italia con l'obiettivo di fare la stessa cosa quindi estrarre la CO2 dell'atmosfera e sotterrarla utilizzando energia eolica e solare per farlo quindi ripeto in associazione con la Climeworks il Politecnico di Torino è leader in Europa per la rimozione della CO2 purtroppo questa attività è stata sospesa temporaneamente per via del Covid quindi possiamo convertire la CO2 in calcare oppure la si può anche convertire in carburante per jet il problema però è che questo carburante verrà poi bruciato producendo ulteriore CO2 quindi non dà nessun vantaggio qui vediamo la sequenza degli eventi quindi si soffia aria sopra un liquido che assorbe la CO2 poi bisogna ripulire il liquido farlo seccare e poi pomparlo sottoterra oppure farla reagire con qualcos'altro per per ottenere il calcare quindi questo è il principio questo è un esperimento fatto in Canada dove si soffia l'aria sul materiale assorbente questi sono dei ventilatori e si si trasforma la CO2 in carburante per jet questo utilizza la CO2 quindi non la produce ma nemmeno la riduce e questo è l'impianto nella British Columbia quindi ecco i metodi che sono stati proposti ma per ora soltanto a livello sperimentale ma se vogliamo davvero eliminare 42 gigatonnellate di CO2 ogni anno dall'atmosfera non si possono avere solo alcuni esperimenti abbiamo bisogno di uno sforzo gigantesco globale per costruire migliaia di questi impianti per eliminare la CO2 dall'atmosfera e la domanda è siccome sembriamo tutti concentrati sulla semplice riduzione delle emissioni che è un errore allora non riusciremo mai a far raffreddare il clima se non togliamo la CO2 dall'atmosfera è questo che dobbiamo fare è questa la sfida che il mondo deve affrontare ma il mondo non è ancora pronto vorrei concludere con alcune fotografie recenti questa è la calotta della Groenlandia dove siamo tornati quest'anno che la vedete ancora più scura degli anni precedenti qui si vede il ghiaccio nero a causa del terriccio che si accumula sul ghiaccio il ghiaccio in sé si scioglie e quel che rimane è sempre più scuro quindi assorbe sempre più radiazioni e quindi si scioglie ancora più velocemente e qui vedete l'acqua che si è sciolta e che si è raccolta in una specie di piscina questa foto era di quest'anno e poi vi faccio vedere un'altra cosa che è un progetto di cui faccio parte forse anche voi potreste farne parte si tratta di incoraggiare l'utilizzo di automobili elettriche alimentate da energia rinnovabile quindi energia eolica o solare che viene usata per generare l'elettricità che alimenta le auto attraverso una batteria e ovviamente il mondo sta andando nella direzione delle automobili elettriche ma un metodo per incoraggiare nell'utilizzo e di organizzare gare di velocità tra auto elettriche in zone remote del mondo ecco un'auto elettrica per una corsa sulla calotta della Groenlandia e questo spiega perché sono andato in Groenlandia l'azienda si chiama Extreme E le loro corse si possono guardare le organizzano 5 volte all'anno in zone remote del mondo e quindi le corse si possono vedere questa è la corsa fatta in Groenlandia l'anno scorso questi sono i piloti che aiutano la scienza raccogliendo campioni di ghiaccio e di terriccio dalla calotta quindi i piloti sono stati di grande aiuto e questo è uno dei piloti che forse riconoscerete che è passato alle corse di auto elettriche è Jensen Button un pilota di gran premio molto famoso che adesso corre con le auto elettriche e qui è in pose davanti alla calotta groenlandese e qui abbiamo un'altra pilota una campionessa delle corse femminili e qui vedete un altro pilota che indica dove il ghiaccio si sta sciogliendo e quindi l'acqua corre verso il mare e forma una specie di cascata termino con questa fotografia abbastanza spaventosa ho parlato della minaccia al clima dovuta ai bovini e in effetti questa è una minaccia molto più grande di quanto le persone pensino la maggior parte della biomassa cioè del peso delle persone e degli animali su questo pianeta è costituito da bovini il bestiame costituisce il 60% del peso dei mammiferi sulla terra gli esseri umani sono il 36% e gli animali selvatici quelli che si vedono nei documentari di David Attenborough sono solo il 4% quindi la maggior parte del peso delle creature viventi su questo pianeta sono bovini che producono metano quindi dobbiamo cercare certamente di ridurre la quantità di cibo di prodotti animali che mangiamo e cercare di mangiare più verdure crudeltà verso gli animali a parte proprio solo perché ridurre il numero di bovini permetterà di ridurre la quantità di metano da loro prodotta e questo salverà il mondo e salverà gli animali selvatici che si stanno estinguendo molto rapidamente per esempio gli orsi polari quindi vi faccio vedere alcune cose che forse potreste voler guardare chiaramente Greta Thunberg ha dato l'allarme e tutto ciò che dice è vero e ci sono due cose che secondo me dovreste guardare o leggere questo libro che descrive tutte le cose di cui ho parlato oggi si chiama Addio ai ghiacci io sono l'autore ed è stato tradotto da mia moglie e poi un film un lungometraggio prodotto da Leonardo Di Caprio che parla delle conseguenze compresa quella del metano e qui si vede nella fotografia una persona che ha preso fuoco perché ha inserito il suo bastone dentro un buco nella banchisa pieno di metano il documentario parla molto di come possiamo ridurre la CO2 nell'atmosfera tutto ciò di cui ho già parlato nella parte finale della mia lezione vi raccomando di guardare questo film e lo dovete guardare in versione pirata perché i produttori non vogliono farlo circolare questo è ciò che ci succederà molto velocemente se non facciamo attenzione questa è la calotta della Groenlandia e si vede lo spessore della calotta sul continente ora la Groenlandia è un'isola ha la forma di arco e il centro è sotto il livello del mare ma grazie allo spessore del ghiaccio che è 3000 metri la Groenlandia di fatto appare come un'isola montuosa man mano che il ghiaccio si scioglie e scompare e il livello del mare sale salirà di 7 metri sostanzialmente avremo un buco al centro della Groenlandia quindi queste sono alcune delle cose terribili che stanno succedendo ciò che voglio dire con tutto questo è che il riscaldamento globale sta accelerando e questo non solo riscalda la temperatura dell'aria ma accelera l'innanzamento del livello del mare e poi influenza la presenza di vita sottomarina aumenta la quantità di metano nell'aria e fa diverse cose molto negative produce questi eventi meteorologici estremi e random quindi la nostra CO2 non produce solo calore ma anche diverse conseguenze negative sul pianeta e quindi dobbiamo assolutamente ridurre la quantità di CO2 nell'atmosfera utilizzando le tecniche di cui ho parlato non basta solo ridurre le emissioni dobbiamo eliminare la CO2 quindi abbiamo bisogno di capacità tecnologiche ingegneristiche molto elevate che certamente esistono al Politecnico e quindi spero di poter vedere alcuni di voi in futuro coinvolti in questo tipo di lavoro e aiutare a salvare il mondo dal riscaldamento globale climate warming